Le criticità immediate chiaramente derivavano da una situazione di bilancio molto pesante che è stata messa a rischio anche l'ordinaria gestione. Del resto i mancati introiti derivanti dal sisma 2016 hanno fatto sì che l'Ater non incassasse più gli affitti. Questo ha portato appunto a un grave deficit di bilancio che però la Regione ha già dato impulso su questo. Abbiamo sensibilizzato il Governo regionale già prima del nostro insediamento e devo dire che ha approvato un emendamento proposto da Gatti e Di Matteo che ha stanziato 400 mila euro come contributo straordinario. Un emendamento votato all'unanimità, cosa che in politica accade poche volte. Questo anche a testimonianza della grande vicinanza non solo del Governo ma anche del Consiglio regionale. Quindi le istituzioni è bello che si sentano tutte quante coinvolte su questa tematica che poi è la tematica della casa. La tematica della casa è uno dei sentimenti più profondi delle persone. Dobbiamo essere tutti quanti concentrati nel raggiungere l'obiettivo che poi fondamentalmente è quello della ricostruzione post-sisma. Oggi circa 400 alloggi risultano ancora inagibile, quasi 300 nella città di Teramo. In questi cinque anni dobbiamo essere bravi a riportare tutti quanti nelle case. Voglio ringraziare anche il precedente Consiglio d'amministrazione che ha posto le basi perché poi ci sono anche procedure burocratiche, norme e procedure da rispettare che poi hanno in qualche maniera ritardato per forza l'inizio di queste procedure ma oggi noi ci troviamo a dover dare un impulso fondamentale ed è quell'obiettivo che ci siamo posti tutti insieme con il Consiglio d'amministrazione. Una task force destinata proprio alla ricostruzione perché ci sono bellissime professionalità all'interno dell'ater, bellissime professionalità tecniche che però vanno necessariamente supportate perché parliamo di oltre 60 edifici da ricostruire, qualcuno adesso è stato delegato all'ufficio speciale per la ricostruzione ma con il quale tra l'altro ho già fatto una riunione e gli altri dovranno essere portati avanti dall'ater di teramo perché poi c'è il decreto commissariale che offre gli strumenti per poter agire autonomamente e potersi assumere le responsabilità anche delle proprie scelte, cioè l'ater deve essere autonoma nel riformare il proprio parco immobili soprattutto quello lesionato dal sisma del 2016. Ci sono ancora inquilini purtroppo senza riscaldamento, a queste persone magari lei si sente di garantire di poter risolvere la problematica a stretto giro? Ma intanto esprimo vicinanza a queste persone, oggi per noi è solo il terzo giorno di scuola ma mi sento totalmente vicino a loro tant'è che abbiamo già mandato agli uffici di fare una ricognizione di quelle che sono le esigenze dal punto di vista del riscaldamento, non è tollerabile che nel 2024 ci siano persone ancora al freddo e soprattutto ci siano persone al freddo per responsabilità della pubblica amministrazione. È chiaro che magari ci sono state delle questioni burocratiche che hanno intoppato il procedimento e adesso dobbiamo essere bravi a risolverlo prima possibile.